Chiara Martinelli, hai fatto parte della delegazione del Molise per quanto riguarda la rappresentativa di Fallavolo Femminile, reduce dal Trofeo delle Regioni, è stata sicuramente una bella esperienza, un diciottesimo posto tra l'altro che anche vi ha soddisfatto. Sì, è stata sicuramente una bellissima esperienza, questo purtroppo è stato come il primo Trofeo delle Regioni che la maggior parte di noi ha fatto, anche l'ultimo, sempre per la maggior parte, perché diciamo che nel settore femminile è una classe del 2007, il massimo è un under 15, quindi diciamo che per me, come anche molte altre mie amiche e compagnie di squadra, è l'ultimo anno. Quindi diciamo che è stato un primo Trofeo perché negli anni scorsi, nel 2020 e nel 2021, a causa del Covid, abbiamo saltato questa bellissima esperienza. E quindi niente, questo è stato il primo, è stata una bellissima esperienza appunto, e ci siamo divertite un sacco, sia dal punto di vista sportivo siamo molto soddisfatte, perché nonostante il diciottesimo posto possa sembrare un posto molto, diciamo, nei piani bassi, per noi è un risultato molto grande, perché abbiamo perso sì delle partite, ma le abbiamo comunque giocate, quindi diciamo che ci siamo divertite, nonostante appunto questa classifica. Infatti vi siete tolte delle comunque soddisfazioni, avete vinto per ben due volte contro l'Umbria, ve la siete giocati anche contro società sicuramente più grandi e per un soffio, diciamo, anche non siete state inserite tra le prime dodici di questo trofeo. Sì, abbiamo giocato otto partite, ne abbiamo vinte quattro, e diciamo che abbiamo appunto giocato con regioni che erano sicuramente più grandi di noi, molto più forti di noi, ma nonostante questo siamo soddisfatte proprio perché abbiamo riuscito a giocarcela, siamo sempre state allo stesso livello, quindi diciamo che è stato bello. Per poco non siamo riusciti a vincere, quindi sì, classificarci tra le prime dodici, però insomma è stato comunque bello quello che è stato. E il tuo futuro adesso continuerai sicuramente con la palla a volo e con i vari campionati anche regionali, giovanili, ma anche perché no quelli nazionali? Sì, sicuramente io continuerò la palla a volo, è la mia passione, e insomma sì, continuerò a fare le regionali qui sperando di vincere e poter poi andare a gareggiare anche le nazionali come è già successo per altri anni. Sì, 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 sì.